old friends psg parziale 2 a 1 capitano 4 ragazzi 2 a 1 il parziale siete partiti alla grande poi questo quello che ha aperto un po i giochi si curano tanto forse più di noi però con un buon possesso palla e provando conclusioni anche dalla distanza possiamo ottenere un buon risultato va bene bocca al lupo ragazzi se andiamo a parlare da buonasera ragazzi c'è stari ciao 2 a 1 ragazzi il parziale loro vi hanno messo in difficoltà all'inizio poi siete cresciuti molto e adesso la partita è apertissima sì in effetti con qualche sgridata si riesce a giocare meglio a volte qualcuno vuole fare troppo il solista si litiga e questo non fa che nuocere al gioco della squadra risultato per ribaltare la canna tempo ci mettiamo un po più di cliente un po più di unione quello che ci è mancato negli altri tornei e vedo che ci manca anche adesso va bene buon secondo tempo ragazzi grazie andiamo per le interviste finale siamo nel post partita del match psg old friends carata in meta 5 a 4 per il psg migliori in campo testa e gallotto entrambi autore di un poker di reti parliamo prima con gallotto autore del poker di reti che però non è servito la propria squadra per portare il risultato positivo a casa peccato verrà siete stati in vantaggio per parecchio comunque stasera la formazione molto rimaneggiata è stata comunque una buona gara combattuta loro pure giocano bene vista l'assenza diciamo prestazione direi ottima sì vista l'assenza sì abbiamo tantissimi infortunati speriamo ognuno di recuperarvi per la settimana per la prossima gara al di là di tutto cosa ti è piaciuto di più della partita no è stata una bella partita maschia intensa ehm da detto sommato è stata una bella gara va bene la vendita particolare per i tuoi quattro gol sei stato cinico questa settimana eh sì però purtroppo non stavate vederlo io dico alla piccola gaia va bene bocca al nuovo con la prossima ciao e allora adesso parliamo con testa quattro gol un paio davvero di pregevole fatture soprattutto la conazione di esterno davvero stupenda da vedere e rivedere è stata una gara difficile soprattutto all'inizio poi un grande finale che è molto grande orgoglio è arrivata questa vittoria per tutto questo diciamo che la loro è un'ottima squadra e a noi siamo ancora da rodare però siamo tutti dei validi elementi dobbiamo un attimo trovare l'assetto in campo però c'è molta tecnica tattica e corsa nella squadra quindi ci sono tutti gli ingredienti sì sì possiamo migliorare ancora molto anche perché la squadra di stasera non era male ma fortunatamente quindi mancavano un po' di elementi però cioè pure loro erano lì è che di cambiare infatti è stata equilibratissima fino alla fine testa vuoi fare una tecnica particolare per questi quattro gol che hai fatto? sì sì a Paola e Aola ciao 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 ciao